L'arancione è il simbolo internazionale della campagna contro la violenza sulle donne. Colorare di arancione una fontana significa dare il senso dell'attivismo, fare in modo che le persone che passano, anche se non sono particolarmente coinvolte in questa cosa, possano avere un momento di riflessione. Da oggi e per 16 giorni la fontana del fiume Po in piazza CNL farà colorata di arancione il ricordo delle donne vittime di violenza di genere. Perché la violenza sulle donne non è un problema solo delle donne, ma è un problema che riguarda tutte le persone e tutti gli strati della società ed è una piaga che si vince soltanto con la collaborazione di tutti.